Battista? Dove stai signora? Ehi, c'è cara, sto qua, che non mi vedi? Allora, ti avevo confusso con la tenda? Sì? Battista, mannaggia! Battista! Sì, signora. Le vedi queste scarpe? Le sento pure, signora. Mi fai proprio spiritoso. Questa è pulita, questa invece è sporca. E non è la prima volta. Io non capisco perché mi pulisci sempre una scarpa sola. Signora, io qua sto a mezzo servizio. E mezzo servizio qua. Quindi su mezzo tavolo, su mezzo mobile, mo sto andando al piano mezz'aria. Mi hai fatto venire un mezzo mal di testa. Che hai cucinato? Mezzizzini. Quando vuole, pronto il mezzo di trasporto, signora. Sì, un mezzo di sprazzato.